Ciao a tutti raga, sono RK Alex con un nuovo video. Questo è un video molto speciale, almeno per me. Avevo voluto parlarvi dal vivo ma ho talmente caldo che sono senza voce, in caso sarà fatto nei prossimi giorni. Questo è un video dedicato a Scorpioncina 00. Lei ieri tramite una foto di Whatsapp mi ha inviato la fotografia di un disegno fantastico alla giapponese che stava ultimando. È semplicemente fantastico. Così, per curiosità le ho chiesto se potesse fare per me un disegnino alla giapponese di me, precisamente il genere di disegno kiwi. Lei ha accettato e oggi mi ha inviato la foto del disegno. Ha azzeccato quello che desideravo. È una ragazza fantastica, epica. Ti ringrazio infinitamente per il tuo lavoretto. Sarà la mascotte ufficiale del canale. Didi successivamente come possono ringraziare il mio socio e amico Matt 125, colui che mi ha inviato fan art epiche. Grande bro. Ricordo immensamente quel video dove hai fatto il ritratto del mio volto. E-P-I-C-O Epico. Vi adoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.